Ciao a tutti da Remo e... Sara! Rispetto Sara! Vai a volare! E' morbido eh! Pensavi che fosse più... Tu mai pensavi che fosse più... Più... Più stressante! No! 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 Wow! Mi piace! E neanche abbiamo acceso lo strumento eh! No! C'è un variometro! Praticamente... ... ... Sì, se andiamo... Si appoggia sulla gamba, così ti affatichi di meno. Tanto se sei nella sella è tutto molto tranquillo, questa è una sella che tiene la macchina, capito? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ehi, no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perplessità, dubbi... No, io sto tranquilla. Sto tranquillissima. No, io sto tranquillissima. Questa è una termica, vedi? Praticamente è aria che ci spinge verso l'alba. Ah. E questa ci fa arrivare fino alle nuvole. Però ora che tu non sei abituato a salire in termica, noi ce ne andiamo in un punto meno turbolento, che è quello lì giù. Che è quello lì giù, per cui praticamente... Andiamo a salire sull'altra montagna. Se stai lì su... Se vai dove è turbolenta che fai tipo... Non ho capito. Se vai dove è turbolenta che fai tipo... I capriole. Se l'aria è turbolenta? Sì, nella zona questa... Allora, oggi... Cioè, diciamo che a quest'ora la turbolenza è zero. Non c'è proprio la turbolenza. No. E questa non è turbolenza, è un po' di movimento, ma niente di che. E quello che... Quello che può succedere è che le condizioni siano molto fiacche. E allora uno va ad atterrare giù, ma perché non ha più la portata dell'aria che sbatte da sotto a sopra, capito? Ok. Questa è un'altra termica, molto forte. Molto forte, che sta abbastanza forte, di fine giornata. Vediamo di girarlo. Vediamo di girarlo. Senti com'è forte questo? Cioè, è forte. Non è forte. È debolina, però è una bella termica questa. Ok, è una bella giornata oggi. Dico la verità. Sì? Sì, sì. Molto bella. Lo vedi dai cumuli. Tutti i cumuli che vedi sono tutte termiche. Cioè, ogni cumulo si può utilizzare per salire. Vedi, questa parte qua, che vedi qui davanti, è una mega termica. Questa qua sta nulla praticamente. Senti questo cumulo qua, ma guarda, ma proviamo ad andarlo a agganciare, se lo agganciamo. Vedi? L'abbiamo agganciato? Non lo so se lo agganciamo, ma te lo dico, perché adesso siamo sotto vento. Dobbiamo andare sopra vento al cumulo, cioè davanti. Che lui tira, ma tira da davanti, capito? Ecco, adesso sta incominciando a tirare. Che sta in mezzo alla pianura, tira da davanti e da dietro, capito? Sì. Però questa dovrebbe essere solo la parte discendetta. E ora, superato il cumulo, vedrai che si sale. E ora, superato il cumulo, vedrai che si sale. Non sappiamo niente, ma dobbiamo superare questa parte qui. Non però va bene, perché tanto dobbiamo scegliere. Abbiamo fatto otto minuti, salutiamo. Ciao a tutti, venite a volare, non state a casa a giocare. Venite a volare. Adesso ci prepariamo alla casa. Allora, lo facciamo, lo facciamo.